In frigo c'è una mezza dozzina di acquisti che Capuano non vede l'ora di scongelare. Sono almeno sei gli elementi, portiere, difensore, centrocampista, due esterni d'attacco e punta centrale, con i quali Musa e Martone hanno già in mano qualcosa di più di un semplice accordo sulla parola. Nel caso di Francesco Bertolo, 29enne difensore di sinistra prelevato dal Picerno che si sta allenando da venerdì scorso al Partenio, manca solo il visto di esecutività sul contratto che si spera di ottenere con lo sblocco del mercato già nelle prossime 24, massimo 48 ore. Con lui firmerebbe, per essere subito aggregato e disponibile per Teramo, anche Agostino Rizzo, centrocampista 99, acquistato dal Livorno in prestito con diritto di riscatto da esercitare a fine stagione. Al di là di come andrà il programma, domani è atteso anche l'arrivo in Irpinia di Thomas Federico, centrocampista classe 98 di proprietà del San Martin de Tucan, prima divisione Argentina, partito questa mattina alla volta di Roma. Più o meno sullo stesso binario è atteso poi Francesco Fedato, 28enne del Gozzano, sempre più vicino a liberarsi dalla società piemontese per abbracciare la causa bianco-verde con la mediazione dei suoi agenti Jovino e Coscia. Il gol vittorio ha rifilato domenica, albisceglie invece ha momentaneamente rallentato la trattativa per Luca Giannone, 30 anni del Cadanzaro, all'esterno destro che nel progetto di Capuano dovrebbe alternarsi a Mikovski a destra, si vedrà nei prossimi giorni con Musa per valutare il da farsi dopo che si era già promesso ai Lupi, ma a Grassadonia pare essere solto qualche dubbio. L'eventuale alternativa a Giannone si chiama Jacopo Manconi, classe 94 del Perugia, che è appena rientrato dallo sfortunato prestito al Gubbio, dove sognano Benjamin Mokulu in uscita dal Padova. Nel frattempo, complice alle dinamiche di un mercato sempre in evoluzione, alla luce dell'infortunio di Silvestri, Lavellino sta cercando un sostituto dell'ex Genova. Nel pallare con Andrea Pasini, per capire se ci può essere uno spiraglio all'accessione di Alfagheme, il discorso è inevitabilmente caduto su Angelo D'Angelo. L'ex capitano, domenica scorsa, autore di una doppietta arrende, tornerebbe di corsa, ma esattamente come Castaldo, l'ostacolo resta la società di appartenenza. Pasini ci proverà con la solita discrezione, anche perché Lavellino, esattamente come per Castaldo, è disposto a pagare solo l'ingaggio del calciatore. Nel frattempo, con i prezzi delle punte tuttore alle stelle, Caturano chiede un triennale a cifra da Serie B. Si continuano a tenere calde le piste che portano a Cianci, in parola con Martoni, attraverso l'agente Bergossi, ma il teramo non lo cederà mai, soprattutto in questa settimana, onde evitare di ritrovarselo contro. Evacuo, in uscita da Trapani, dove hanno preso So, e Castaldo, che resta in silenzio, ma sempre in contatto con il suo agente Denotaris, per sfruttare la minima possibilità di ritorno. Tradini, del Parma, rientrato dal prestito al Trapani e Brandoani della USTB, infine uscirà il nome del portiere da affiancare a Tonti.